Sospensione delle attività scolastiche in tutta Italia fino al 15 marzo, così ha deciso il governo e quindi anche in provincia di Arezzo scatta questa sospensione. Immagino sia stata una giornata di fibrillazione anche per voi. Sì, una giornata di fibrillazione, ma sono settimane perché comunque gli uffici scolastici e la direzione regionale si è sempre tenuta in contatto, visto l'emergenza del Covid-19 con i dirigenti scolastici. Abbiamo fatto una task force, un numero verde appunto a livello regionale, ci sono stati in tutte le province i tavoli con le varie prefetture dove la scuola è sempre stata presente. Dove appunto fino a poco tempo fa, visto il tuo e l'articolo 50 che delega ai sindaci la scelta di chiudere eventualmente le scuole o no, in provincia di Arezzo la scorsa settimana non si era vista questa emergenza perché non c'erano stati casi. Oggi, pochi minuti fa, il Consiglio dei Ministri ha deciso la chiusura, ma perché è un'emergenza sanitaria. La cosa non ci stupiva, ce l'aspettavamo, tanto è che già diversi dirigenti scolastici nelle tre province dirette dal dottor Curtolo, quindi Arezzo sia in Firenze, si erano già attivati per eventualmente fare video lezioni perché ad esempio noi abbiamo case in provincia di Arezzo che i ragazzi ci vengono dall'Emilia Romagna e noi sappiamo bene che in Emilia Romagna le scuole sono state chiuse dai primi giorni di marzo e quindi si erano attrezzati con la videoconferenza. Dobbiamo capire che questa è un'emergenza sanitaria, quindi speriamo che si possa risolvere. Comunque noi anche il caso di Laterina e Pergine che c'è stato abbiamo avuto stretto contatto con le dirigenti scolastici, con i sindaci, quindi stiamo monitorando, sperando che l'emergenza rientri. Questi giorni saranno recuperati oppure no? A detta del Consiglio dei Ministri no, perché è proprio l'emergenza sanitaria. Sono come le elezioni, i casi straordinari, non vengono recuperati, almeno se non siamo in attesa, ma credo di no, insomma la normativa dice questo. La differenza tra sospensione e chiusura riguarda la sospensione delle attività didattiche, ma il personale cosa farà, continuerà? Il personale degli uffici, dirigenti, le scuole sono aperte, continueranno a lavorare. Si cerca di evitare di creare quelle situazioni dove molta gente viene in contatto. Tanto è che le attività di formazione in regione toscana, nelle scuole, erano già state sospese da una settimana.